signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale questo è un altro di quei video che avrei dovuto già fare da un sacco di tempo ma poi sono stati accantonati questa volta però almeno non è per tutta colpa mia teoricamente nella mia intenzione originale questo video sarebbe dovuto uscire subito dopo la serie dei video sul railroad solo che quando mi sono messo poi a programmare i video per bene mi sono reso conto che se non parlavo prima della narrazione emergente questo video avrebbe avuto molto poco senso a quel punto ho deciso di mettere in scaletta prima il video della narrazione emergente solo che il video alla narrazione emergente l'ho riscritto e rimandato talmente tante volte che alla fine è uscito in pratica soltanto il mese scorso di conseguenza questo video esce adesso fortunatamente siamo ancora prima della fine dell'anno quindi moralmente sono a posto non è passato neanche un anno da quando questo video era stato programmato non perdiamo altro tempo dato che ne è già stato perso abbastanza questa settimana andiamo a parlare della collana di perle cominciamo ripetendo l'ovvio che non guasta mai in questo video io farò riferimento ad argomenti che sono già stati trattati e spiegati in una serie di video precedenti nella fattispecie il 23 quello sulla struttura in tre atti il 29 che è il primo della serie sul railroad e il 36 quello del mese scorso sulla narrazione emergente se questi video non li avete visti o non vi ricordate vi consiglio caldamente di andarveli a vedere prima di vedere questo video se non rischiate di perdervi delle parti nel caso io vi lascerò poi i link diretti nella descrizione di questo video nel caso me ne dimenticassi fatemelo notare nei commenti così mi correggo e aggiungo comunque chiarito questo andiamo avanti nella serie dei video sul railroad ho detto in maniera abbastanza esplicita che per il master è indispensabile sapere quali saranno lo schema degli eventi futuri e avere un'idea abbastanza precisa di cosa succederà nella quest anche molto prima che la quest arrivi a quel punto anche perché senza sapere quello che succederà e senza avere dei punti di trama prefissati per il master sarebbe impossibile stendere una struttura degli atti non sapendo dove i punti focali degli atti vanno a cadere nel video però sulla narrazione emergente ho detto che il master dovrebbe prendere sempre tutto quello che i giocatori propongono e integrarlo nella storia per renderla più avvincente e più interessante per loro apparentemente queste due cose sono in contraddizione come può il master decidere prima lui quello che succederà e poi permettere ai giocatori decidere a loro quello che vogliono fare c'è qualcuno anche che l'ha fatto notare nei commenti e di per sé non è una domanda sciocca quello che però deve essere chiaro è che sì il master deve sicuramente avere dei punti di trama fissi per poter impostare la struttura degli atti e poter prevedere l'andamento della quest ma non ogni singolo evento di trama deve essere deciso prima anzi la maggior parte di quello che succede in una quest non serve che venga preparato in anticipo anzi molto probabilmente è meglio se viene improvvisato o comunque se viene preparato a ridosso del momento in cui viene giocato prendendo spunto da quello che dicono i giocatori gli eventi che effettivamente devono essere decisi sin dall'inizio della struttura della storia sono molto pochi probabilmente relativamente distanti tra i loro e danno origine a un tipo di struttura narrativa particolare del gioco di ruolo che molto spesso viene chiamato la collana di perle per rendere le cose più comprensibili facciamo un esempio concreto il master sta preparando una quest che vuole che abbia forti elementi marinareschi molto probabilmente ispirandosi ai racconti o ai film sui pirati molta della quest avrà ovviamente a che fare con la navigazione e il master vuole inserire come antagonista ricorrente nella sua quest una nave avversaria la cui ciurma è un antagonista di quella dei giocatori il master fa iniziare la quest con i personaggi che stanno viaggiando su una nave diretti verso una città dove devono compiere una qualche impresa improvvisamente la loro nave viene attaccata dai pirati gli avventurieri ovviamente vincono e la loro nave arriva in porto più avanti anche la nave pirata entra in porto alcuni pirati in franchigia riconoscono gli avventurieri di ritorno a loro impresa e cercano di attaccare rissa anche in questo caso ovviamente gli avventurieri vincono ed essendosi dimostrati valorosi sia nella rissa che nella precedente impresa vengono assunti per compiere una nuova impresa da qualcun altro in città ora i pirati dopo essere stati battuti per due volte agli stessi avventurieri sono inferociti e non perderanno occasione di attaccare gli avventurieri e la nave su cui viaggiano non appena si presenti per loro la possibilità se dovessimo rappresentare graficamente la linea narrativa di questa quest apparentemente sembrerebbe proprio una linea i personaggi combattono i pirati in mare i personaggi compiono un'impresa i personaggi combattono i pirati in città i personaggi compiono una seconda impresa e infine i personaggi combattono nuovamente con i pirati in mare una quest relativamente tipica ma di tutti questi quali sono effettivamente gli elementi che sono indispensabili per il master come abbiamo detto quello che il master si propone di ottenere con questo pezzo del railroad e inserire un nemico ricorrente di tono marinaresco perché ritiene che questo sia il miglior tipo di avversario ricorrente per una quest dai toni marinareschi ma in funzione di questo le due imprese che gli avventurieri sono chiamati a compiere quando sono in città sono del tutto indifferenti il master per quelle imprese potrebbe usare qualunque cosa potrebbe usarle per sfruttare altri temi per descrivere meglio la città ma alla fin fine che gli avventurieri siano in città per risolvere un enigma sconfiggere un malvagio o semplicemente visitare il postribolo nei fatti per il railroad è indifferente non è nemmeno così importante che gli avventurieri restino in città in città dovrebbe tenersi il secondo scontro con i pirati però quello scontro serve semplicemente a aumentare e giustificare la credine dei pirati nei confronti dei giocatori l'importante è che avvenga non dove avvenga gli avventurieri una volta arrivati in città potrebbero non compiere nessuna impresa e semplicemente andarsene la prima volta utile che passeranno vicino al porto di una qualunque città quell'incontro potrebbe generarsi e dopotutto se stiamo parlando di una quest di ambientazione marinaresca è probabile che tutte le città abbiano un porto o comunque siano per qualche motivo collegate all'acqua il terzo scontro analogalmente potrebbe accadere ovunque adesso sono i pirati a seguire i personaggi quindi la prima volta che i personaggi salperanno da un qualsiasi porto i pirati potranno andare lì ad attaccarli e sarà perfettamente giustificato paradossalmente questo scontro potrebbe non avvenire neanche in mare se i giocatori si attardano troppo su a terraferma i pirati potrebbero decidere di mandare degli uomini a terra per tendere un agguato quando meno se lo aspettano se vogliamo essere precisi non è neanche necessario che gli antagonisti siano i pirati i giocatori durante il primo attacco potrebbero decidere di allearsi coi pirati contro l'equipaggio che li stava trasportando in città a quel punto sarebbero i membri del loro equipaggio a covare rancore nei loro confronti e volerli poi andare più avanti a bastonare al porto e a tendere agguati i giocatori stessi potrebbero essere i pirati che hanno assaltato un mercantile mentre tornavano in città per i fatti loro e adesso o gli stessi marinai nel mercantile vogliono vendetta coi pirati o i superstiti del mercantile hanno avvisato le navi della marina militare e saranno poi i membri della marina militare a tendere gli agguati ai personaggi e diventare il nemico ricorrente anche in un gioco che ha una forte componente meccanica delle regole molto pesanti è comunque probabile che la differenza tra un pirata un marinaio mercantile e un soldato della marina militare sia molto risicata se non del tutto assente e tutti e tre i mostri utilizzano fondamentalmente lo stesso profilo il master non dovrebbe neanche creare tre tipi di combattente diverso a seconda di quello che i giocatori avranno scelto di fare nel loro primo combattimento potrebbe semplicemente riutilizzare sempre lo stesso profilo ma descriverlo a seconda di quali sono state le scelte dei giocatori come un pirata come un marinaio come un membro della guardia costiera dopo tutto al master non interessa nello specifico a quale fazione appartengono questi antagonisti gli basta come si è detto che la fazione abbia un tema marinaresco per adattarsi allo spirito della quest marinaresca che si sta raccontando e fondamentalmente i pirati marinai e guardie costiere da questo punto di vista sono del tutto indifferenti riprendiamo il grafico che avevamo tracciato per la linea narrativa della quest il primo scontro sarà sempre quello con i pirati durante il viaggio in base a quello i giocatori potranno scegliere liberamente con chi allearsi e come proseguire se andare in città o se andare da un'altra parte potenzialmente la linea narrativa si apre in un ventaglio di possibilità ma tutte queste possibilità riconducono comunque sempre allo scontro ai moli richiudendo il ventaglio dopo quello scontro nuovamente i giocatori avranno la possibilità di scegliere liberamente cosa fare ma in un modo o nell'altro il master potrà giustificare semplicemente il terzo scontro richiudendo nuovamente la linea narrativa sul punto di railroad che aveva prefissato la linea narrativa si allarga per poi richiudersi per poi riallargarsi per poi richiudersi di nuovo per questo motivo viene detta struttura collana di perle o semplicemente la collana di perle ognuna delle singole perle che compongono la collana può contenere qualunque cosa potrebbe contenere intere altre quest come nell'esempio che abbiamo fatto ma il master potrebbe utilizzarle per inserire altri temi potrebbe utilizzarle per inserire temi proposti dai giocatori anche quest proposte dei giocatori potrebbero avere cose complesse significative come potrebbero contenere semplicemente delle scelte banali e puramente estetiche potrebbero anche in realtà non contenere assolutamente niente ed essere semplicemente un preludio per un troll quantistico che il master sta preparando per il prossimo punto di strozzamento della linea quello di cui il master deve preoccuparsi è semplicemente fare in modo che qualsiasi elemento inserisca all'interno di queste perle sia facilmente riconducibile al prossimo elemento che gli serve per mantenere in equilibrio il suo railroad nel nostro caso tra il primo punto e il secondo punto l'unica cosa indispensabile è che i giocatori vengano attaccati relativamente vicini a un porto cosa facciano tra un attacco e l'altro conta poco il master inserirà qualcosa che i giocatori propongono che sa che i giocatori piace i giocatori vogliono esplorare un dungeon bene poco fuori dalla città c'è una grotta semi sommersa dove i contrabbandieri hanno il loro covo vogliono sentirsi degli eroi gli uomini pesce stanno rapendo i pescatori della città e i giocatori devono andare a salvarli sono in città semplicemente per far cacciare all'interno della locanda ma lo sanno tutti che le locande migliori sono proprio quelle nella zona del porto non voglio comunque illudervi che tutto questo sia facile anzi per riuscire a gestire bene una collana di perle serve un sacco di pratica una buona dose di spirito iniziativa perché non sempre tutto può essere previsto e quindi il master potrebbe dover improvvisare costantemente per far tornare la quest nel binario previsto e a volte anche avere un pizzico di fortuna non guasta soprattutto se i giocatori decidono di fare spontaneamente qualcosa che in realtà torna molto comodo a voi come master per far procedere la quest nella giusta direzione l'importante è che prima di tutto manteniate la calma e resistiate all'impulso di risolvere tutto immediatamente negare scelte ai giocatori o arrabbiarvi che vi farà perdere la concentrazione e peggiorare solo il rendimento come master sangue freddo andate avanti con quello che sta succedendo portate a termine la sessione poi con calma riflettete e col proseguire delle varie sessioni di gioco cercate ogni volta di far succedere eventi che piano piano riportino la quest sul binario prestabilito ci vuole pazienza e ci vuole tempo potrebbe volerci un mese perché recuperiate una di queste perle e la portiate nel punto di railroad diviso in varie sessioni di gioco è perfettamente normale anzi è la situazione classica in questo tipo di schema ovviamente esistono metodi per rendere il ritorno in carreggiata la quest è più facile metodi per renderlo più efficiente metodi che funzionano metodi che non funzionano sul canale ne abbiamo già visti in passato continueremo a vederne in futuro e ovviamente scrivetemi nei commenti tutti quelli che voi conoscete così io posso realizzare dei video molto interessanti a riguardo diciamo che per oggi ho parlato già fin troppo come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate la campanella e iscrivetevi se non volete perdere le notifiche per i prossimi video che usciranno io sono il master cae noi ci vediamo al prossimo video